E ciao a tutti ragazzi, sono Fabio il Fabio e oggi sono qui per portarvi una grandissima notizia Purtroppo non mi sono scritto al testo, quindi non so cosa cazzo devo dire Ma so che riuscirò comunque a dire qualcosa in questi 2-3 minuti di video Perché non mi serve arrivare a 9 per prendere qualche spicciolo Ciao Andrea Ehm, indipendentemente Domani sera alle ore 21 sul mio canale Twitch Ci sarà in diretta con me anche BARDE Il... Abbo? Babbo? Com'era il nome? BARDE, BARDE E Rob Arena, quindi il veneziano e il finto milanese Gli due che coincidono con il napoletano In un'unica live, in una live speciale, una live piena di emozioni Una live piena di cammelli, perché c'è una sorpresa speciale Ci sarà anche l'entrata di un arabo con un cammello Che farà un'apparizione durante la live streaming Quindi non solo c'è il cammello, c'è la live, c'è BARDE il nabbo C'è Rob Arena, ci sono io E c'è un account magico che state vedendo in questo momento Che è parzialmente coperto dalla mia immagine Quindi la punk è parzialmente coperta Ma la risolviamo subito Quindi un account completo per quello che riguarda questo anniversario Il regalo direttamente da BARDE il nabbo Avete capito bene ragazzi? Abbiamo finalmente sverginato Quindi dopo sei anni di gioco Siamo riusciti finalmente a sverginare BARDE il nabbo Da regalare un fresh Quindi BARDE in maniera esclusiva Per una sola volta durante sei anni Non uno, sei anni di gioco Regalerà un fresh a un fortunatello Quindi uno di voi Qualsiasi Non ci sono bisogno di abbonamenti Non c'è bisogno di pagare Non c'è bisogno di sub Non c'è bisogno assolutamente di nulla C'è bisogno soltanto di partecipare alla live Un fortunatello tra di voi Che poi fortunatello relativamente Perché lo potete fare Cioè ormai non ci sono più banner Ma lo potevate fare anche da soli Un fortunatello tra di voi Vincerà un account regalato Dalle mani sante Dalle mani immacolate Della nostra guida Del nostro santone Del nostro Della nostra guida spirituale BARDE il nabbo In arte Roberto Quindi il suo vero nome è BARDE Vabbè In linea generale Che poi la parte bella è che Roberto è Roberto Cioè Robarina Roberto Rob BARDE il nabbo Rob Multiversus Ok Il multiniverso Che coincide in tre cose diverse All'account che gioco io Il proprietario è Roberto Sto iniziando a notare Di essere circondato Da Roberti Ma questo non è importante Questo è relativo Vi ricordo che domani Quindi alle ore 21 Ci sarà la diretta Con BARDE Con Rob Arena In cui Ho un pelo di yellow Sopralmento Il mio gatto Yellow Non il colore giallo Il mio gatto Che è molto Molto peloso Molto Ok Quindi ci sarà questa diretta Sul canale Twitch Chi non fa ancora parte E vuole parlare di subbase In maniera Decente Quindi in maniera moderata In maniera da darsi dei consigli E non in maniera stupida Blanda Con persone che non ci capiscono Cazzo Ciao Andrea C'è il canale Anche c'è anche il canale Telegram Certo ci sono un poco io Che sono sopra le righe Durante le live Durante i video Ma per il resto In chatto sono Sono come BARDE il nabbo Sono molto Molto zen Quindi ringrazio tutti Per l'attenzione Ci becchiamo domani Alle ore 21 Sul canale Viola Quindi sul canale Twitch Tanto che dico Twitch O non dico Twitch Ok Quindi ci becchiamo lì E mi raccomando Stay strong Guarda la live Vinci il fresh Regalato da BARDE E poi farà un bel video Nei prossimi giorni In cui mi lamenterò Di tutto questo anniversario Dall'inizio alla fine Perché miglior anniversario Sto paio di palle C'è il Lasciamo perdere Poi ne parleremo Un bacio a tutti Che la Madonna Vi accompagni E che Gesù Cristo Sia con voi Grazie Grazie